Nasce ufficialmente di vino il distretto agroalimentare di qualità della vitivinicoltura di Basilicata. A potenza, nella sede regionale della Coldiretti, che ha promosso il progetto insieme alla C.Agricoltori, è stato stipulato un protocollo d'intesa tra l'Enoteca regionale Lucana, il Consorzio del Grottino di Roccanova, quello delle terre dell'Alta Valdagri, quello della Doc Matera ed altre importanti aziende vitivinicole lucane. Il distretto nasce con l'obiettivo di operare in maniera sinergica su tutto il territorio regionale per aumentare la massa critica e dei quantitativi, oltre che la qualità del comparto ed avere un'immagine unitaria della Basilicata che trova massima espressione nei vini del territorio. Questo progetto ha l'ambizione di mettere intorno a un tavolo tutti i soggetti istituzionali e privati che interagiscono con il settore del vino. Noi ci muoviamo oggi per la firma di un protocollo d'intesa che mira alla costituzione della società del distretto che abbiamo chiamato distretto di vino. È un'azione che rientra appunto nei distretti agroalimentali di qualità e avrà delle opportunità anche di ricevere risorse finanziarie, comunitarie, nazionali e anche locali a livello di Basilicata e anche attraverso i gruppi di azione locale. Quindi con questa azione noi miriamo a fare veramente squadra, a fare sinergia perché come una partita di calcio bisogna fare gol nella porta giusta. I distretti sono un'opportunità davvero rilevante sullo scenario, ci sono bandi davvero importanti con cifre importanti, sono felice che si muova il mondo del vino e costituendosi un distretto importante l'Aglianico e gli altri vini lucani hanno bisogno di notorietà, hanno bisogno di finanziamenti per crescere e rilanciarsi ancora ulteriormente sul mercato italiano e internazionale.